La redazione di Florence Multimedia La redazione della velocità tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra lo svincolo di Firenze e Puneta e San Casciano Nord in direzione Siena Sulla statale 12 della Betone e del Brenero chiusa una corsia per lavori tra San Giuliano e la variante di Ponte Ammoriano in entrambe le direzioni Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio! Buon viaggio!